E' stata una bellissima giornata oggi con l'Osservatorio Giovani, escono un po' i lavori fatti in questo anno che sono consistiti nell'organizzare e capire bene qual è la situazione della medicina, non soltanto quella attuale ma anche quella prossima avventura, anche in funzione di quello che sarà la professione per i giovani medici. Ecco, è importante innanzitutto partire, siamo partiti dai dati attuali, dove notiamo che il numero dei medici in realtà non è stato mai pochi, diciamo inferiore a quello che era la normalità di accessi. Abbiamo avuto dal 2010 fino al 2024 una continua crescita del numero dei medici. Non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda le specializzazioni, invece dove magari le specializzazioni sono state nei momenti di grande crisi, infatti c'è il rimbuto formativo, ma che nel 2020, dopo il decreto Speranza che ha aumentato il numero dei posti per quanto riguarda le scuole di specializzazione, i numeri assoluti abbiamo in qualche modo ricoperto l'imbuto formativo. Però dobbiamo ricordare che ci sono ogni anno circa 5.800 posti di specializzazione che vengono lasciati, per cui in realtà poi anche lì dobbiamo vedere qual è la branca specialistica che è stata richiesta o meno, perché è vero che in numeri assoluti possiamo risolvere il problema, ma per specifica branca abbiamo delle grosse carenze su alcune specifiche, quindi tipo la medicina e la chirurgia d'urgenza, come abbiamo visto, le attività chirurgiche, quelle che danno una grande responsabilità professionale più che altro. Ecco, la cosa in principale però è dai dati che emerge che ovviamente noi se continuiamo ad aumentare il numero degli iscritti a medicina, che poi potranno servire non prima di 11 anni, ma tra 11 anni noi creeremo in realtà non una copertura dei posti vacanti, ma in realtà una pletora, quindi un aumento notevole del numero dei medici. E questo non fa bene, non fa bene né alla categoria, ma soprattutto non fa bene neanche ai pazienti, perché ovviamente non si ha un numero adeguato di persone che sono state formate anche in maniera corretta. Quindi dobbiamo evitare questo fatto, la pletora comunque è negativa, dobbiamo in realtà mettere in modo quel meccanismo che auspichiamo da tempo, che è quello di un calcolo del fabbisogno dei medici, che sia esattamente quello che serve per quanto riguarda un numero ottimale di medici che devono essere in Italia, quindi tra rapporto medico e paziente. Questo si evince chiaramente, quindi dobbiamo evitare di aprire la facoltà di medicina così, anche perché oggi le stesse facoltà non sarebbero in grado di formare bene i medici, quindi di ritornare sul numero programmato fatto come si deve. Eviteremo così la pletora, metteremo in modo un meccanismo virtuoso, non avremo branche specialistiche meno frequentate rispetto a altre branche specialistiche più frequentate e quindi avremo anche la capacità organizzativa che ci permetterà di dare quell'assistenza sanitaria che i cittadini richiedono e che hanno diritto ad avere.